E' uno, e' due... Basta! Bagliamo, beviamo! Questa è la cosa che amo di più, il nostro pubblico. Sì, vabbè, dicono che sono un po' malavidosi, ma si sa, è solo marketing. Ma hai preparato a bacio? Sì! Ma tu? Sei un uguale al mio gatto? Sì, mangi, bevi e vai dietro alle gatte. E signorina, capo di chi fa un amore che è marrocchina? Ehi, santo, l'amore vero esiste. E signorina che fa un zannanzo! Un uomo viene trovato morto a mare! Dove, scusa? A mare? Sei proprio uno stronzo. Non siamo meglio. Ehi, Rosco, chi è? Chi è? Il fenomeno di tuo cognato dice che hai visto il killer. L'hai visto in faccia o no? Voi volete sapere chi ha sparato? E adesso ve lo dico. Dicono che la lotta tra il bene e il male non esiste. Perché il bene non lotta. E' una cazzata. B Sparare! Sparare! Sì, solo l'amore ve positive abbiamo lo fHo Sì, solo l'amore. Sì, solo l... E' un voile non esiste. mi sei fatto nuda e mi sei fatto, chi ha giocato un mese, tu io sento come c***o